Adesso Bilbo doveva liberare un nano. Ma come? Se avesse tagliato il filo a cui era appeso, il disgraziato sarebbe precipitato a terra come un sasso da un'altezza considerevole. Strisciando sul ramo raggiunse il primo fagotto. Fili occhili, pensò vedendo la punta di un cappuccio blu che sbucava in cima. Più probabilmente fili. Decise scorgendo tra i fili che lo avvolgevano anche la punta di un lungo naso. Sporgendosi dal ramo riuscì a tagliare la maggior parte di quei fili robusti e vischiosi e, come aveva previsto, scalciando e dimenandosi, emerse quasi per intero fili. E Bilbo, mi dispiace dirlo, scoppiò a ridere vedendo il nano contrarre le braccia e le gambe irrigidite, ondeggiando sul filo della ragnatela che gli passava sotto le ascelle, proprio come uno di quei buffi pupazzi che ballano su uno spago. In un modo o nell'altro fili fu issato sul ramo e fece del suo meglio per aiutare l'hobbit. Sebbene avesse la nausea, si sentisse male per il veleno dei ragni e per essere rimasto appeso quasi tutta la notte e il giorno seguente, legato come un salame, con la sola punta del naso che sporgeva e gli consentiva di respirare. Ci mise un bel po' a togliersi quella robaccia dagli occhi e dalle sopracciglia e, per quanto riguarda la barba, dovette tagliarne la maggior parte. Poi tutti e due cominciarono a tirar su un nano dopo l'altro, tagliando i fili che li legavano. Nessuno era in condizioni migliori di fili e alcuni stavano peggio di lui. C'era chi era riuscito a malapena a respirare, mentre altri avevano avuto maggiori dosi di veleno. In questo modo salvarono chili, bifur, bofur, dori e nori. Il povero vecchio bambur era così esausto. Essendo il più grasso era stato punzecchiato e pizzicato in continuazione. Cadde semplicemente giù dal ramo e si afflosciò al suolo, per fortuna su un mucchio di foglie, e rimase sdraiato lì. Ma c'erano ancora cinque nani appesi all'estremità del ramo quando i ragni cominciarono a tornare, più incolleriti che mai. Bilbo si spostò subito all'estremità del ramo più vicino al tronco, e trantenne quelli che si arrampicavano su. Mentre liberava fili, si era tolto l'anello, e poi aveva dimenticato di rimetterlo, sicché i ragni cominciarono tutti a sbavare e a fischiare. Adesso ti vediamo, creatura ignobile. Ti mangeremo e lasceremo la tua pelle e le tue ossa appese a un albero. Vai! A un pungiglione! Non importa, lo cattureremo lo stesso, e poi lo appenderemo a testa in giù per un giorno o due. Mentre si svolgeva questa scena, gli altri nani si davano da fare per liberare il resto dei prigionieri, e a tagliare i fili con i loro coltelli. Presto furono tutti liberi, anche se non era chiaro cosa sarebbe successo in seguito. La notte prima i ragni li avevano catturati senza alcuna difficoltà, ma approfittando della sorpresa e del buio. Questa volta si preparava una battaglia all'ultimo sangue. A un tratto Bilbo si accorse che alcuni ragni si erano raggruppati intorno a Bombur, sdraiato per terra. Lo avevano legato di nuovo e lo stavano portando via. Lanciò un grido e colpì i ragni che aveva di fronte. Questi si affrettarono a sgomberare, ed egli ruzzolò e cadde giù dall'albero, proprio in mezzo a quelli che stavano per terra. Per loro la sua piccola spada era una novità infatto di pungiglioni, come guizzava avanti e indietro, splendiva, di gioia quando li infilzava. Bilbo ne uccise una mezza dozzina prima che gli altri scappassero e gli lasciassero Bombur. «Venite giù! Venite giù!» Gridò lo Hobbit ai nani sul ramo. «Non state lì a farvi intrappolare!» Infatti vedeva che i ragni stavano arrampicandosi sugli alberi vicini e strisciavano lungo i rami sopra la testa dei nani. I nani scivolarono, saltarono e caddero di sotto, undici tutti in un mucchio, la maggior parte di loro tremanti e malfermi sulle gambe. Ed eccole, dunque, riuniti tutti quanti, dodici contando il povero vecchio Bombur, sorretto da un lato dal cugino Bifur e dall'altro da suo fratello Bofur. E Bilbo che danzava intorno a loro, agitando Pungolo, a centinaia di ragni furiosi che strabuzzavano gli occhi di sopra, di lato e tutto intorno a loro. Sembrava proprio una situazione disperata. Poi la battaglia cominciò, alcuni nani avevano dei coltelli, altri dei bastoni e tutti quanti potevano ricorrere a delle pietre. E Bilbo aveva il suo pugnale elfico, i ragni furono respinti più volte e molti furono uccisi, ma non poteva continuare a lungo. Bilbo era quasi morto di fatica. Solo quattro nani erano in grado di reggersi bene sulle gambe e presto sarebbero stati tutti sopraffatti come mosche esauste. I ragni cominciavano già a tessere le loro tele tutto intorno, da un albero all'altro. Alla fine l'unico piano che Bilbo riuscì a escogitare fu quello di rivelare ai nani il segreto dell'anello, gli dispiaceva molto, ma non poteva farne a meno. «Tra un minuto scomparirò», disse. «Cercherò di tirarmi dietro i ragni se ci riesco, e voi dovrete restare insieme, dirigervi dalla parte opposta, lì a sinistra. Quella è più o meno la via che conduce al luogo dove abbiamo visto per l'ultima volta i fuochi degli elfi». Stentava a farsi capire dai nani, intontiti dalle vertigini, dalle urla, dall'agitarsi dei bastoni e dal lancio delle pietre, ma alla fine si rese conto che non c'era tempo da perdere. Inesorabili i ragni stavano stringendo il cerchio, improvvisamente si infilò l'anello e con grande stupore dei nani sparì. Di lì a poco si udì risuonare. «Ragno matto? Sputa veleno?» In mezzo agli alberi, lontano a destra, i ragni ne furono terribilmente sconvolti, smisero di avanzare, e alcuni corsero in quella direzione. «Sputa veleno» li rese così furiosi che persero il segno. Allora Balin, che aveva capito il piano di Bilbo, meglio degli altri, partì all'attacco. I nani si serrarono tutti insieme, scagliando una pioggia di sassi che si avventarono contro i ragni. Riuscirono a rompere l'accerchiamento. Distanti alle loro spalle, le grida e il canto cessarono di botto. Sperando con tutte le forze che Bilbo non fosse stato preso, i nani corsero via. Non abbastanza in fretta, però. Erano storditi e fiacchi, e non potevano fare molto più che zoppicare e traballare, sebbene numerosi ragni li inseguissero molto da vicino. Di tanto in tanto dovevano girarsi per combattere quelli che stavano per raggiungerli, e qualche ragno stava già sugli alberi sopra di loro, lasciando cadere giù lunghi fili appiccicosi. Le cose si erano messe di nuovo molto male. Quando Bilbo riapparva all'improvviso, inaspettatamente attaccò di lato i ragni stupefatti. «Avanti! Avanti!» urlò. «Ci penso io a pungerli!» E così fu. La sua spada guizzò avanti e indietro colpendo i fili tesi dei ragni, mutilando le loro zampe e ferendo i loro corpacci quando si avvicinavano troppo. I ragni ribollivano di rabbia, sputacchiavano e schiumavano, e sibilavano orribili imprecazioni, ma erano mortalmente terrorizzati da pungolo, e non osavano farsi molto vicini, ora che era tornato. Così per quanto impregassero, la loro preda si allontanava lentamente, ma inesorabilmente. Fu un'impresa terribile e sembrò che ci volessero ore, però alla fine, proprio quando Bilbo non ce l'avrebbe più fatta ad alzare il braccio, neanche per vibrare un ultimo colpo, i ragni improvvisamente si fermarono e smisero di inseguirli, tornando delusi alle loro oscure dimore. A quel punto i nani si resero conto di essere arrivati sul limitare del cerchio dove c'erano stati i fuochi degli elfi. Non avrebbero saputo dire se si trattasse di uno di quelli che avevano visto la notte precedente, ma pareva che in posti come quello aleggiasse una certa magia buona, non molto gradita ai ragni. A ogni modo, lì la luce era più verde e i rami meno fitti e intricati, e così ebbero la possibilità di riposarsi e riprendere fiato. Rimasero distesi per un po', ansimando e sbuffando. Ben presto però cominciarono a fare domande. Bilbo dovette spiegare per bene tutta la faccenda della sfarizione e il ritrovamento dell'anello. Li interessò così tanto che per un po' dimenticarono i loro guai personali. In particolare Balini si stette per farsi raccontare da capo la storia completa di Gollum, con gli indovinelli e tutto il resto. Il anello al posto giusto. Col passare del tempo però, la luce cominciò a svanire. E dov'era il sentiero? E dov'era il cibo? Che cosa avrebbero fatto adesso?